Ciao ragazzi, ciao e bentornati sul mio canale. Intanto come va? Come vedete sono rientrato a casa e no, sono già in grandi forze perché nella giornata odierna andrò a vedere la partita allo stadium. Ma è stata una scelta dell'ultimo minuto, il buon Alfredo mi ha invitato nuovamente alla partita per cui ci verrò volentieri se siete in zona. Mi raccomando ragazzi, mi farebbe piacere ovviamente vedervi. Io ci andrò con un largo anticipo anche perché entrerò con largo anticipo, oltretutto c'è anche Del Piero allo stadio, entro nell'ingresso principale dove entrano i bus e tutta la tribuna ovest centrale, io sarò là per cui anche i cosiddetti vips e di conseguenza rischio di beccare Alex Del Piero. Quindi ci andrò da presto, anche per questa cosa. Anche solo riuscissi a immortalarvelo e a portarlo nella live reaction come video in più sarebbe già una gran figata, no? Anche per voi. Per cui mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, se siete in zona domani vi darò l'appuntamento su Instagram. In genere vado all'ingresso B, più o meno, per incontrare la gente. Nel parcheggio dell'ingresso B, dove c'è anche Romeo, insomma, lì scambiamo delle chiacchiere, parliamo di calcio, ci salutiamo, sarà veramente una cosa molto molto bella. E poi ragazzi, domenica andrò a giocare la YouTubers League ai campi del Varano di Torino, che è un campo che conosco molto bene perché ci ho fatto dei tornei con l'Udinese. C'è qualche vlog vecchio portato anche tempo fa, ecco, con le varie partite con l'Udinese, ecco. Quindi mi raccomando sarà una cosa carina, particolare, perché ci saranno tanti creator, c'è Toselli, Kino, tanta gente, per cui avete l'opportunità di beccarci tutti quanti là, ecco. Allora, tornando a noi, dobbiamo parlare di più questioni, in realtà, rimaniamo sull'ambito giudiziario. Mi viene da ridere ragazzi, ma mi viene da ridere per un sacco di ragioni, che vi dirò. Poi per la formazione magari ci aggiorniamo più tardi, fare un video verso l'ora di pranzo circa, per capire quale potrà essere la potenziale formazione che andrà a giocare contro l'Elas Verona. Allora, partiamo subito dall'inchiesta giudiziaria. Intanto Calciopoli, ragazzi, non è mai finita, perché a quanto pare la Juventus sta continuando a battagliare anche nei tribunali ordinari. La Juventus aveva fatto richiesta al TAR per un risalecimento da 400 e passa milioni di euro per gli scudetti avvocati, eccetera, eccetera. Ora, il TAR ha respinto il ricorso. Ora, la Juventus invece ha fatto ricorso al Consiglio di Stato, con due ricorsi differenti, ma fanno parte dello stesso argomento, Calciopoli. Uno, in cui chiedono l'annullamento della revoca dello scudetto alla Juve, insomma, anche il fatto che l'abbiano dato a quelli là, ai nerazzurri, no, ai cartonati, come piace chiamarlo da noi. Quindi, quello scudetto di cartone, la Juventus lo vorrebbe indietro. Quello è un ricorso. E due, l'altro ricorso è legato più a una questione economica di risarcimento. Ora, vediamo che cosa succederà. Fatto sta che il Consiglio di Stato sulla parte del risarcimento ha preso tempo, anche perché c'è ancora in stallo quella legata alla revoca dello scudetto. Altra situazione che bisogna monitorare è sicuramente il ricorso al CEDU, fatto da, insomma, Giraudo, che potrebbe, secondo me, creare, innescare delle situazioni e degli scenari differenti. Per cui, occhio perché, ragazzi, Calciopoli per la Juve non è mai finita. E la Juve continua a battagliare nei vari tribunali, anche extrasportivi. Per cui si sta rivolgendo alla giustizia ordinaria per cercare di risolvere questa situazione, questo patatrack. Adesso vediamo che cosa succederà. Io spero di leccaremi i baffi insieme a voi, di poter brindare con un calice buono, di una bottiglia buona, per l'esito di queste vicende. Oltre, ovviamente, quelle che ci riguardano per questioni un po' più vicine in termini temporali. Quindi l'inchiesta Prisma, nell'ambito della giustizia ordinaria, che è quella che si protererà per diverso tempo. Alcuni parlano anche di fine, iter, tre gradi ipotetici di giudizio, fino al 2027. Quindi è lunga, 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 lunga. Sulla parte sportiva, però, ci sarà maggiore celerità e bisognerà sicuramente vigilare per cercare, insomma, di capire un po' l'andazzo. L'altra situazione che mi ha fatto sbraccare dalle risate, ma poi ho capito, in realtà, forse qual è il senso di questa situazione. Praticamente, ragazzi, il Kodakons, con un gruppo di tifosi, un'associazione di tifosi napoletani, ha fatto ricorso al TAR per far sì che venisse revocato lo scudetto del 2017-2018 alla Juventus. Quindi, alla luce di tutto ciò che è emerso, eccetera, 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 insomma, lo scudetto che ha vinto la Juventus dovrebbe essere, insomma, tolto e andrebbe, a quanto pare, al Napoli. È questa la cosa che hanno fatto. Io, ragazzi, un'idea mi sono fatto, è molto semplice, che è una cagata, questo ricorso, che non avrà, secondo me, un terreno fertile e si arenerà. Cioè, quali calciopoli ci sono degli elementi chiari sull'ambito della giustizia sportiva, di come sono state condotte certe situazioni. Un Inter che è poi andata prescritta, ma che ha ottenuto quello scudetto. E lo stesso Palazzi dice che non ci fosse stata la prescrizione, l'Inter probabilmente sarebbe andata in B, per tutti gli elementi che c'erano e visti considerata un po' la precedente sentenza che ha portato la giustizia sportiva a dichiarare colpevole la Juventus. Però loro ci hanno lo scudetto nostro, vinto sul campo. Dettagli, eh, dettagli non da poco. Però in questo caso, ragazzi, nel 2017-2018, cosa? Che cosa? Io l'idea me la son fatta, ragazzi, che, a mio parere, mia opinione, è che il Coda Consul, insieme a questo gruppo di tifosi, viste considerate il momento del Napoli, viste considerate le beghe giudiziarie della Juve, con tutto il contorno mediatico attorno, e loro ci provino a fare, insomma, questa cosettina qua, metterla in più a tutto il carico, a, per avvalorare quel che finora è stato fatto dalla giustizia sportiva, per rincarare la dose, dal punto di vista mediatico, di quel che sta accadendo in questo momento, in primis. E due, è una sana pubblicità, ragazzi. Coda Consul e questo gruppo qua fa, si fa un po' di pubblicità, visto e considerato il momento, e quindi ci si sguazza a livello mediatico nell'essere anti-Juve in questo caso. Per cui, siccome mi pare che il pullman sia abbastanza grande e in quel carro o in quel pullman ci stia tanta tanta gente e chi sale ha solamente dei benefici in termini di rientro, di immagine, di importanza, eccetera, è comprensibile che sia così. Detto ciò, mi son fatto, ripeto, delle grasse risate, ho visto gente che era già allarmata, io vi dico, ragazzi, state calmi, state sereni, e poi vedremo. Detto ciò, vediamo poi che cosa accadrà sull'inchiesta stipendi, che è a breve, insomma, la Juve, ragazzi, è impegnata su tutti i fronti, io ovviamente sarò qui sempre pronto a vigilare, ma ragazzi, vi dico una cosa, questo ricorso, secondo me, è una barzelletta, ok, quindi mollatelo, vediamo cosa succederà invece sugli altri ricorsi legati a Calciopoli, vediamo cosa succederà poi sull'inchiesta Prisma, e sono quelli, i piani che ci interessano di più. Ho visto che il Corriere ha fatto un articolo forte con questi 40 punti di penalità, io ragazzi non credo ai 40 punti di penalità, e vediamo, insomma, che cosa succederà. Detto ciò, io vi do appuntamento, insomma, allo stadium, vi do appuntamento a stasera per il post-gara, qualora veniate allo stadium, alla live reaction di domani, insomma, tanti contenuti per voi, mi raccomando, vi mando un fortissimo abbraccio, e sempre, fino alla fine. Forza Juve, ragazzi, non si molla un attimo, non si molla di un centimetro, forza.